deborah 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 o non c'è mai aspetta di solito è lei che introduce e vabbè pazienza invita 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 allora ci vediamo alle 7 e un quarto e poi vabbè no aspetta mandato messaggio non ha la maglia righe stirata per quello vabbè ma che importa io non stiro mai dai lo stiro manco le camicie figurati la maglietta ma deborah vabbè intanto il canale che l'abbiamo abbiamo rubato se di barcella come vanno sti orali come vanno a me lo chiedi miglior ho fatto miglior ho fatto io eh vabbè però insomma qualcuno c'è io qualcuno eh abbiamo abbiamo sentito tante persone tanti di voi qualcuno che l'ha passato mi ha scritto qualcuno che non l'ha passato anche mi ha scritto eh diciamo che la lezione si riesce a fare ok la lezione diciamo della situazione facciamo un po' il punto della situazione è che allora le lezioni parliamo adesso di a b24 a b24 a b24 a b24 a b24 perché la b25 non è ancora partito mi pare di aver capito giusto no no in realtà no no non credo che ad oggi ne siano partiti non non credo che siamo partiti quindi a b25 le lezioni si possono fare tranquillamente si riesce a fare se uno si prepara la struttura come vi abbiamo fatto vedere le volte nei precedenti video quindi una struttura già pronta quindi la classe eh diciamo l'ossatura generale poi dovete fare semplicemente la lezione quella lì abbiamo visto che si riesce si riesce a fare ci saranno ci sono tre fasi quando si prende il si prende il la ehm il titolo non quando viene assegnato quando viene assegnata la lezione subito è sì ce la faccio poi c'è un momento dice ho Dio no che cosa faccio cosa metto momento di scoramento un momento di disperazione totale e poi verso le quattro del pomeriggio avviene c'è la lampadina che si accende e e via e via si parte ecco abbiamo visto più o meno con amiche qui in zona che è stato è stato è stato è stato così comunque la lezione si può fare quello che preoccupa da quello che abbiamo capito è la domanda la domanda disciplinare è quella domanda disciplinare la domanda disciplina è quella che sicuramente ha creato sta creando sia più ansia a chi lo deve fare ehm sia problemi a chi a chi lo ha fatto eh chi l'ha fatto insomma di scoramento no perché qualcuno e quindi volevamo un attimo cioè volevamo un attimo anche un po' analizzare queste domande che sono uscite e e cercare ci siamo dette prima io e Paola cioè è un po' diremo delle cose scontate ok diremo delle cose scontate che però ehm per chi per chi magari un po' fuori da ehm dal settore e anche un po' preso dall'ansia non 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 cioè non ci sta pensando e e sono un po' anche delle indicazioni su come su come ripassare su come studiare schematizzare e su come puoi agire nel momento in cui vi viene chiesta vi viene fatta la domanda e vediamo un attimo la cosa che mi colpisce leggendo anche una lista eh che abbiamo fatto che abbiamo raccolto e anche le cose che ci hanno detto amici pubblico aspetta che la metto la condivido tac ecco c'era una lista ah ecco ecco questa qua per esempio era su uno dei gruppi ma alcune di queste domande sono state fatte proprio a persone che conoscevamo e più di una moltissime ecco queste 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 domande sono state raccolte da qualcuno sul gruppo di AB25 AB24 ovviamente non lo abbiamo fatto noi ok appunto abbiamo riconosciuto ringraziamo ringraziamo chi lo ha fatto ecco ringraziamo quindi ehm in realtà come vedete stai facendo vedere il nostro il nostro va bene di cui nessuno sa l'esistenza adesso lo sanno tutti e vabbè dai adesso lo sanno tutti allora guardate questi titoli allora in realtà salta all'occhio una cosa anzi due uno è che sono in realtà ehm domande cioè delle domande generiche cioè a parte poche pochissime in cui vi si va a chiedere l'utilizzo di in questo cioè in questo autore che non è non è generica ma in realtà è una cosa su cui comunque potete potete lavorare se conoscete l'autore la maggior parte di questi titoli è veramente vaga ok vaga quindi questa cosa è una cosa positiva è vaga la prima cosa che si colpisce e la seconda cosa che mi colpisce è che sembrano corrispondono a i titoli a titoli dei capitoli dei nostri debiti letteratura ok qua parlo per chi ovviamente insegna eh insegna nei licei ok cioè io prendo un libro adesso me li sono presi qua insomma così ne parliamo nello specifico e eh se vado a guardare per esempio ehm la l'indice l'indice dei ehm delle varie delle varie epoche io tutti questi incluso Kerouac che tanto scalpore ha eh ha suscitato eh li trovo tutti tutti ci sono tutti dal primo all'ultimo eh in questo momento io sto guardando ve lo dico insomma così diciamo non è pubblicità è proprio cioè vi dico è l'ultima edizione di Performer Heritage ok di Zanichelli ma vi sto facendo vedere questo semplicemente perché eh è quello che quello che usiamo ehm è per esempio ehm Kerouac è uno proprio del degli ultimi capitoli ok quindi una cosa prima regola che abbiamo capito è che dobbiamo studiare fino alla fine ok cioè fino alla fine perché stanno chiedendo degli autori non dico moderni ma comunque diciamo finali ok c'è infatti un capitolo eh in questo libro che si chiama proprio Towards the New Millennium e va dal 1945 al 2000 va anche se io ho un po' delle perplessità perché io non ci riesco non riesco mai ad arrivare fino lì è un altro discorso è un altro discorso e la seconda cosa ecco così arriviamo proprio a questo punto qua no la seconda nota che dobbiamo che di cui dobbiamo tenere conto è che oggettivamente si stanno comportando come se fosse un'interrogazione scolastica cioè proprio un'interrogazione come quelle che noi facciamo oggettivamente a scuola cioè non tutti insomma però cioè loro stanno partendo dal generico parliamo di quelle che abbiamo sentito finora partono dal generico e poi vanno sempre più sempre più nello specifico ma io se facessi l'orale non lo so su uno di questi argomenti a questi argomenti potrei dire conosco l'argomento lo presenterei così a scuola ecco lo farei in questa maniera qua perché darei per scontato che insomma secondo me questa è una riflessione importante paola allora in questa in questa regione che noi stiamo vedendo è andata molto male cioè l'orale è andato molto male proprio per per le domande per le domande è andata male per le domande praticamente stanno tenendo pochissima in considerazione il lesson plan e stanno invece dando molta importanza alle domande però anche vero paola che se ci pensi se ci pensi nessuno delle persone con cui ci siamo ci siamo confrontate ha in realtà fatto quello che abbiamo appena detto cioè prendere la traccia che è stata estratta e dire come io la presenterei agli studenti ma perché pare proprio che chiedono proprio te lo chiedono te lo chiedono ma secondo me secondo me quello che bisogna fare è questo siccome loro partono con mi viene in mente questo partono con questa domanda generica ok hamlet hamlet ci puoi dire qualsiasi cosa ok puoi dire qualsiasi cosa quindi il discorso qual è che parlo comincio a parlare ma non è che posso parlare a lungo quindi come io faccio un attimo di silenzio do alla commissione spazio per parlare quindi quello che dobbiamo trovare bisogna adottare la tecnica del rimbambimento le devono rimbambire di parole a macchinetta quindi diciamo che ci sono delle cose che dobbiamo dare per scontate ovvero uno che sappiate parlare in inglese non è così scontato però è vero dovete saper parlare in inglese e due che abbiate studiato anche questo non è scontato nel senso che abbiate studiato veramente tutto che se vi siete chiusi dentro casa e abbiate fatto tutto il programma di letteratura va bene anche se noi a scuola poi non lo facciamo tutto il programma perché come sapete o come forse non sapete se non insegnate voi siete liberissimi di scegliere quali sono gli autori che potete poi insegnare a scuola che sono gli autori da leggere di analizzare quella è proprio una scelta vostra poi ci sono chiaramente dei pilastri dei punti dei punti dei punti fermi non può scegliere per autore può scegliere per tematiche può scegliere come vuole per costruire i vari percorsi ecco questa cosa invece non è così voi sarete esaminati su tutto quindi assicuratevi assicuratevi veramente di aver fatto dall'inizio alla fine del libro ora quello che mi viene in mente è questo quindi si parte dal generico si va verso verso lo specifico e come come faccio cioè io sto studiando ma come faccio allora voi come sapete bene parliamo di macro periodi no abbiamo i macro periodi no le origini in the middle ages the renaissance and the puritan age the restoration and the augustan age è uscita una domanda su sull'epoca augustea per esempio e diceva una ragazza non lo sapevo rispondere è ovvio che questo non deve succedere cioè voi i macro periodi devono essere il vangelo no quindi poi c'è the romantic age giusto e poi e poi andiamo avanti no adesso poi vi faccio vedere dove sto leggendo cosa sto facendo e ve lo faccio vedere poi c'è the victorian age the modern age e su performa per esempio c'è towards the new millennium quindi parto qui quindi mi dicono una traccia io cosa faccio identifico il macro periodo e parto da lì cioè non partite direttamente da dall'autore ok charles dickens a writer with a mission perfetto da cosa parto da quello che sicuramente so con contesto storico e dal generico passo a certi già ho parlato svariati minuti perché io non penso che voi non studiate la l'epoca vittoriana ok ora il mio consiglio era questo ci sono delle ci sono delle mappe ci sono scusate delle delle appendici in questa per esempio è quella del libro che vi ho fatto vedere ok come vedete è ma queste sono utilissime per far studiare gli studenti ma sono utilissime in questo frangente per come si dice per schematizzare e vi faccio vedere ok vi faccio vedere se lo vedete si vede secondo te ma mica tanto perché intanto questo non si vede ecco così questo è un esempio ok questo un esempio vede la macro la macro epoca ecco la macro epoca è una serie di autore hanno una schematizzazione dell'epoca storica veramente fatta bene ok cioè questo vuol dire che io il giorno prima poi guardate i generi letterari dell'epoca e ancora dopo partono con gli autori chiave ok e guardate come sono fatti bene sono fatti chiaramente sono fatti a prova di di dislessico sono colorati vi fanno capire che parlano di argomenti diversi vi parlano della vita vi parlano dei lavori cioè delle opere dei personaggi e dello stile aiutano tantissimo quindi è un modo di schematizzare studiando per passare dalla macro area alla storica alla diciamo medio area non viene come idea cioè quella della del genere letterario e poi entrare nello specifico quindi vi chiedono dickens da dove parto non parto subito da dickens introduco dickens con 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 l'epoca vittoriana no poi di cosa parlo parlo del romanzo parlo della situazione no un po della vita di dickens perché è chiaramente è quella che influenza molto la sua opera e poi vado a parlare di dickens non parlate subito dell'autore cioè se lo sapete dicelo se no no sto parlando no no sto parlando invece no di parlare di più io sto dicendo una cosa diversa di cominciare a parlare di più sembra una cosa stupida lo fanno molto spesso i ragazzi non so se ti capita cioè quando gli fai una domanda molto successo oggi è chiesto una cosa sui canterbury tales ma poi molto specifica tipo non so come descrivevano i personaggi e lei ha cominciato a dire no quando è nato choser ho capito lo fermo no in questo frangente però è importante perché da una parte fate sapere cioè fate sapere che avete studiato approfonditamente dall'altra state prendendo cioè state riempiendo vuoti state riempiendo tempo quindi eh se voi riuscite e questo come vi dicevo questo libro in particolare arriva veramente ci sono eh tu credi della Zanichini ce l'hanno tutti ma anche tutti i libri ad esempio io ho i miei alunni di quinto anno eh Time Machine anche Time Machine ha a queste mappe ce l'hanno tutti ce l'ha anche allora ce l'ha anche Alice in Minds ce l'hanno tutti ve le potete procurare sono facili da procurare perché eh basta che ci abbiate degli amici che hanno i filiali superiori cioè veramente perché sono libri mh assolutamente molto e qua per esempio c'è ehm qua c'è Ian McEwan l'ultimo l'ultimo proprio è eh l'ultimo muore nel 1960 poi ci siamo il Beckett anche Beckett hanno chiesto eh ehm hanno chiesto anche qualcosa di letteratura di letteratura americana vedi un po' se c'è Tolkien perché un mio alunno oggi mi ha detto ma prof non c'è non c'è Tolkien qua non c'è Tolkien può essere che non ci sia Tolkien potrebbe darsi devo cercare se Gilles vedi ci sono tutti Elliot ci sono vera cioè tutti quelli più importanti allora diciamo che nella lista non ho visto autori che non fossero qua dentro cioè ommo sembra che so ben da Zanichelli però ripeto non è solo da Zanichelli no tutti quanti quello lì però assolutamente per inquadrare per chi chiaramente non insegna per chi è magari da un po' di tempo che non studia più la letteratura perché eh chi insegna sa conosce magari ha degli autori che sono preferiti degli autori dei periodi che sono preferiti e eh io vedo ad esempio anche con le mie colleghe non è che facciamo tutte la stessa cosa facciamo quello che ci piace quello che serve anche no che puoi magari costruire un percorso di educazione civica che poi soprattutto poi in quinta cerchi di fare delle cose che possano essere d'aiuto ai ragazzi per costruire il famoso discorso partendo da partendo da un'immagine allora voi considerate che se partite dalla macro area ehm dalla la middle age dalla middle area e poi andate nello specifico sull'autore e alla fine rispondete effettivamente alla domanda sono passati svariati minuti appena vi accorgete che avete detto tutto quello che sapete e allora cioè quello che farei io eh ma poi quello che farei io è mh perfetto allora eh io per esempio ai miei studenti lo proporrei in questo modo loro non lo chiedono ma questo non vuol dire che non lo vogliano sapere anzi secondo me è importante ehm perché è vero che nel lesson plan voi gliel'avete fatto vedere però loro sanno e adesso qua diciamo una cosa che forse non vorremmo dire però è vero che eh diciamo è forte la tentazione di farsi fare il lesson plan dagli altri e non crediate che non lo sappiano lo sanno benissimo ed è per questo che il lesson plan viene considerato fino a un certo punto ok quindi se invece voi eh dopo che vi chiedono la traccia e avete detto tutto quello che vi hanno chiesto e avete detto tutto quello di cui stiamo parlando ok cioè tutto lo scibile su quell'epoca storica che dovete comunque a prescindere conoscere aggiungete ehm dettagli in più ad esempio io questo autore per esempio ha gli studenti lo proporrei a studenti cos'è Dickens di quarto anno di liceo e farei non lo so farei per esempio un collegamento Dickens sì io lo faccio in quinta ma veramente ah no in quinta no è giusto hai ragione è vero hai ragione Dickens no no è vero giusto hai ragione scusami sono confusa in quinta e poi lo paragoni converga no no sì sì scusate ho fatto no no perché stavo pensando in realtà non ho quinte non la so perché stiamo ripassando la grande no io non ho quinte non ho quinte ma mi ricordavo di averne parlato mi ricordavo di averne parlato e invece si comincia il quinto dal vittorio ma siccome ne ho parlato mi sono confusa con una quarta e e e per esempio posso fare non lo so allora come lo propongo lo propongo ne abbiamo già parlato in un altro video magari facendo dei collegamenti con 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 il con il periodo attuale no per esempio senti Marcella mi è venuta in mente mi è venuta in mente un'idea no un'idea uno studia 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 poi dopo c'è sempre questa cosa un pochettino un pochettino no aleatoria che non si sa allora con l'intelligenza artificiale aspetta un po' che adesso ho fatto una cosuccia e ti faccio vedere ok condividi lo schermo algo di nuovo eccolo qua allora gli ho detto sono andata su Gemini Gemini sono andata su Gemini si vede se insomma si ecco già meglio ok sono andata su Gemini e gli ho detto crea dieci domande di letteratura inglese che vanno dalle origini all'inizio del novecento per farsi autointerrogare certo per farsi autointerrogare guarda non sono mai medioevo quali sono le caratteristiche lo so lo so la sai Geoffrey no no la so si la so no no è che questa cosa questa cosa l'ho fatta in un'ora di supplenza no no avevo pochi ragazzi dovevano essere trovati storia e io non mi sentivo di cioè li volevo aiutare ho detto adesso mi insegno una cosa e ho chiesto cento domande non dieci cento domande storia che ne so dieci al giorno ok perché poi appunto essendo random John Milton in che modo Paradise Lost riflettetemi politici e religiosi della sua epoca il romanzo gotico quali sono le caratteristiche questa è una domanda che è uscita Jane Austen ok poi il romanticismo se ne hanno chiesti all'intelligenza artificiale stai per caso dicendo questo Charles Dickens in che modo le opere affrontano le questioni sociali della Londra vittoriana Oscar Wilde quali sono le caratteristiche principali del teatro di Oscar Wilde questo è teatro eccetera un'opera la sorella Bronte confronta e contrasta i romanzi di Charlotte Bronte e Emiliano Bronte bonus vabbè scegli adesso vediamo un pochettino crea altre dieci domande ma direi puoi direi pure cento le fai le fai vabbè ma sono curiosa voglio vedere se le so eh vabbè vediamo un po' comunque è un ottimo modo per è un ottimo modo per guarda Be Wolf Sir Wayne The Green Knight lo chiede Spencer lo possono chiedere Marlo Marlo John Dunn Afraven aspetta un attimo questo chi è aspetta un attimo questo per esempio non me lo ricordo però hanno chiesto no però hanno chiesto tu lo conosci io sinceramente non me lo ricordo allora però ci sto lavorando adesso in te in quarta Jonathan Swift sto lavorando in quarta Mary Shelley il vittorianesimo Tardo il Tardo vabbè perché poi vabbè c'è questa traduzione un po' così però ecco questa è una questa è un'ottima un'ottima cosa per allenarsi cioè ma vi serve semplicemente non dovete per forza necessariamente ripetere però fate questo esercizio che abbiamo detto no parlo prima della parlo prima dell'epoca storica poi del genere e poi poi rispondo su Spencer o rispondo su Marlo poi se come Marlo per esempio che è spesso poi associato a Shakespeare adesso mi è venuta la cosa spiega il punto spiega il punto 6 va dici un po' io non mi ricordo adesso vado anche a vedere se c'è attenzione eh per fortuna non mi interroga l'intelligenza artificiale va eh sì erano poi perché per chiedervela perché per chiedervela fra ben ah è una donna per chiedervela la devono conoscere per cui mi sembra quindi aspetta cos'è hai visto che 1600 guerra 1640 1680 ma dove l'ha presa nella restaurazione nella restaurazione in tempo reale siamo ignoranti Paola esatto poi vedi però serve guarda che bello questo me la voglio assentare perché poi soprattutto se una donna se una donna potrebbe essere interessante bello questo è bello questo qua è molto bello io non ho mi fai vedere che opera ha scritto poetessa scrittiva c'è dramma secondo me io dopo vado a guardare secondo me su mirror of the times la troviamo cos'è scritto? secondo me c'era scritto prima no no non c'era no niente non mi dicevo niente zero vi prego se la conoscete se la conoscete commentate il video ma soprattutto se ve la chiesano perché mi donna non sta manco sui libri no vogliamo sapere chi la conosce e soprattutto perché ci sarà qualcuno che l'ha fatto ma se pensa adesso dall'anno prossimo è che la insegno perché ci saranno intanto donna e noi vogliamo sapere se è donna noi la vogliamo conoscere meglio quindi per favore commentateci e fateci sapere che cosa sapete vediamo tre bozze per cui che cosa ha scritto avrei bisogno di un po' con te potresti dimmi quale opera periodo sei interessato però dai così gli facciamo venire l'agitazione ma no no è divertente questo qua può essere anche divertente cioè che vi fate generare le domande dell'intelligenza no no questo fa esatto è proprio vedi guarda ad esempio uno qual è il ruolo del mostro grande nell'epica New Wolf e come simboleggia il caos tra la lotta del bene e male questa è una delle domande che facciamo solitamente sono realistiche sono oggettivamente realistiche anche perché considerate che molti a parte che io vabbè intanto vi fate la domanda e vediamo se risponde giusto perché questa vediamo e intanto vi dà già delle risposte no e quindi magari ogni giorno ve ne fate dieci in questa minaccia in questa minaccia scusa in questo modo qua ed è l'apsus freudiano ma mi nasce no no è utilissimo è utilissimo veramente mi mettete lì dicendo io non so per i gruppi di studio che avete magari con cui state lavorando no vi confrontate e provate a provate a fare pratica con questa con questa strategia dell'allungo il brodo cioè del prima e del dopo cioè il prequel che è appunto questo non guardate quello che sto facendo adesso traduci in inglese e anche il sequel chiaramente le domande adesso le abbiamo fatte in italiano però no poi finite di parlare dell'autore rispondete alla domanda e partite subito a bomba partite a bomba su come comunque lo insegnereste avete finito di parlare avete finito tutto non lasciate un secondo libero per farvi fare una domanda non lo lasciate e quindi cominciate comunque ricominciate da capo chiaramente non dite le stesse cose nel lesson plan e gli fate vedere che voi il lavoro che dovete andare a fare in classe lo sapete fare ok dice ma io non lo so fare allora un'altra cosa che possono usare ad esempio è aspetta che tolgo questo e metto questo qua e metto questo questo qui ad esempio anche Algor è carino anche Algor aiuta molto si l'avevamo fatto vedere in un altro video però questa cosa farla rivedere però ne avevamo già parlato l'avevamo già fatto parlare anche Algor utilizza l'intelligenza artificiale ad esempio io ho fatto questo lavoro partendo semplicemente dal titolo British War ok British War Poets e mi ha creato tutta la mappa con i poeti della guerra i poeti della guerra inglese stiamo lavorando adesso con i ragazzi e abbiamo Wilfred Owen noi ne facciamo tre Siegfried e Sassoon e sì scusate Robert Brook Wilfred Owen e Wilfred Owen e Siegfried Sassoon quindi questi tre qua ed è partito dai proviamo un pochettino a farlo allora andiamo qua area personale crea zero crea allora aspetta 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 che faccio mi manca un pezzettino non è giusto ok allora genera idee una mappa su dimmi un argomento che è uscito aspetta un attimo allora non so mi sembra tutto molto ecco il teatro no le avanguardie letterarie e artistiche del primo novecento forse è troppo lungo britannico sì avremmo dovuto chiedergli un inglese vabbè eh vabbè sì ma tanto poi traduce direttamente però se si va direttamente in inglese la stessa cioè si risponde a tempo allora guarda lui parte e ti dice quali sono le principali avanguardie letterarie artistiche del novecento britannico quali sono le principali le caratteristiche principali di queste avanguardie quali sono gli esponenti quali sono i movimenti culturali e sociali che hanno sviluppato eh come le avanguardie veritane si sono differenziate dalle avanguardie degli altri paesi europei allora quale facciamo ad esempio gli esponenti vediamo sempre se io vado sulla matitina se lo so me lo aggiungo se no vado sulla matitina e Algorino e Algorino risponde e Algorino risponde ta 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 ecco qua abbiamo James Joyce Virginia Woolf Elliot Picasso Marcel Duchamp eccolo qua e poi le opere altre opere significative abbiamo Ulysses Mrs. Dalloway ok poi clicca su quella viola dei movimenti culturali perché era quella la domanda specifica questa ok aspetta che torno un po' il litino qua ok tac ecco diciamo che se non avete se non avete il libro con le mappe ecco questo sicuramente questo sicuramente ve le crea ecco diciamo forse sui periodi un po' più moderni se avete un libro vecchio magari potreste potreste fare questa cosa decisamente ecco guarda qua c'è anche il movimento degli angry young men che l'hanno lo hanno lo hanno chiesto questo qua quindi traismo surrealismo futurismo modernismo se lo voglio poi in inglese vado qua un po' qui sopra e gli dico che me la deve fare in inglese e la traduco ok ed ecco che me la sono creata ecco qua poi si può anche sviluppare continuare a sviluppare all'infinito praticamente sì sì direi che sono due spunti due spunti veramente 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 utili per per studiare possono anche fare questo che ad esempio nei gruppi Facebook eccetera ogni giorno si possono mettere generare delle domande potremmo farlo noi vabbè non abbiamo niente da fare noi no? non abbiamo niente da fare non abbiamo niente da fare vabbè ma perché tanto ad esempio io devo far ripassare i miei alunni per l'esame di maturità e allora genero domande vabbè allora se ce n'hai gira le metto nei vari gruppi Facebook così li facciamo almeno gli diamo del materiale cioè si potrebbe fare oggettivamente si potrebbe fare con le domande orali che escono e sono uscite sono già uscite capito allora invece noi generiamo quelle nuove lo vedrai che comunque abbiamo imparato anche noi abbiamo imparato anche noi si viste che già non mi ricordo più esatto perché si impara si impara sempre si impara sempre non si smette mai te lo sei segnato il nome perché io già me lo sono scordato io ho l'Alzheimer allora e un'altra cosa volevo dire e invece non abbiamo ovviamente appunto idee su AB25 su come saranno le domande orali però vi volevo vedere un libro che è questo che in realtà è per la scuola superiore lo conosci questo? questo è di è di Mondatore Education World in Progress è fatto molto bene e secondo me aiuta sia per AB25 che per AB24 ma più per AB25 perché ci sono delle sezioni e ci sono delle sezioni su Top Attractions per esempio quindi Great Britain the USA Australia Canada poi sulla tecnologia cioè sia civilizzazione che oddio civilizzazione si può sentire è civilizzazione intendevo dire però vabbè avete capito sulla sustainability sulla section vi dice niente? no vabbè guardate vi dice niente il titolo in verde? ah The British Islands quando io vi dico quando io vi dico che sembrano titoli di capitoli mi dovete credere voi dovete credere a zia Marcella perché tutti pensate che le hanno prese non le hanno prese le intelligenze artificiali le hanno prese dai loro libri e quindi qua ci trovate tutte le risposte c'è tanta roba sembrano i venditori sembrano i venditori quelli quelli che stanno avvicinando intanto il libro di Isabella con lo sponsor che abbiamo allora è andato è andato esaurito Isabella questo è un messaggio per te continuano ad arrivarmi i messaggi di gente che vuole comprare il libro e non lo trova avanti su dai allora un'altra cosa importante che io sono sicura sicura che chiederanno all'orale di AB25 è questo qui sotto l'agenda 2030 l'agenda 2030 signori e qua ci sono e qua ci sono i goal più più importanti in realtà veramente quasi tutti poi ci sono altre domande che sono uscite qui c'è una sezione sia sulla geografia degli Stati Uniti le regioni degli Stati Uniti e ve le chiederanno sono sicura che le chiederanno sulle history notes on the UK history notes on the USA quindi sono cose che stanno già uscendo anche in AB25 oh guarda che cosa ti ho trovato lo vedi qua quindi c'è cos'è c'è Tolkien eh sì ma quello lì mi ha chiesto un mio alunno sì 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 no però c'è anche Tolkien ci sono i sistemi politici le religioni vabbè c'è anche addirittura tutti i paesi anglofoni parla di Canada Australia New Zealand però adesso vi apro una cosa a caso cioè no a caso una cosa che ci interessa per esempio New Zealand vedete cioè parla cioè qua vi dà da parlare ve ne dà un bel po' quindi secondo me secondo me un libro che vi può aiutare molto per AB25 è questo World in Progress di Mondatory Education ma è adottata e poi è da un po' che gira perché io ce l'avevo ce l'avevo l'anno scorso credo in un istituto tecnico peraltro World in Progress questo? World World in Progress non le parole World in Progress di di Mondatory Mondatory Education ok secondo me no perché ho pensato anche a Your World ma secondo me è meglio questo meglio questo quindi allora sono libri che potete assolutamente trovare chiedendo agli amici li potete trovare anche di seconda mano cercate le mappe cercate i libri delle mappe dei vari libri di letteratura più nuovi sono meglio è se invece non arrivano all'epoca insomma alla fine dell'onivecento almeno utilizzate Algor è una buona idea utilizzare l'intelligenza artificiale e niente fatevi interrogare fatevi interrogare l'intelligenza artificiale ottima idea Paola ma quello ma quello l'intelligenza artificiale ma secondo voi perché lo sa? perché io e Paola e tutti gli altri lo usiamo lo usiamo eh non vi dico perché ecco quindi quello le sa le cose no beh comunque io posso posso fare perché adesso stiamo facendo il ripassone quindi tutto l'ultimo periodo diciamo dal dai romantici fino a appunto io arrivo fino a Orwell purtroppo perché non ce la faccio non ce la faccio proprio non riesco poi a me non piace fare le cose giusto perché le devo fare devi saltare un mare vedere come può essere come può essere connesso con la vita dei ragazzi perché è attuale anche a me piace questa cosa non mi piace fare gli autori giusto per dire li abbiamo fatti anche a me mi piace in un contesto siamo sulla stessa linea noi d'altronde non a caso va bene Deborah l'hai stirata sta maglietta? Deborah ha scomparsa ha detto proprio no ha proprio scritto che si è data aspetta ho visto un messaggio poco fa ha detto proprio ciao ciaoone ha fatto aspetta vediamo un attimo sta stirando lo posso dire cosa scrive no non lo posso dire diciamo che deve preparare la cena ecco va bene io anche va bene alla prossima perché faremo una seconda parte vero Paola la facciamo la seconda parte facciamo una seconda parte relativa alle griglie di valutazione e poi ci abbiamo un sacco di ospiti ah sì a voglia ce l'abbiamo finata agosto se volete però lo sappiamo vi eravamo mancate ecco questa cosa la dobbiamo fare ecco va bene e quindi studiate 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 schematizzate e fatevi interrogare in bocca al lupo e alla prossima ciao ciao ciao